L'economista è apparso al quattro ottimista E che ha espresso soddisfazione Saremo cinesi ma non è imitazione Il brano ti è piaciuto? Che figata Che piace In realtà c'è un brano in cui A un certo punto prendo per il culo Proprio quello che va oggi in classifica Cioè nel senso che ho detto Se ci metto meno di 5 minuti Lo lascio buono Se ce ne metto di più lo butto via Infatti ci ho messo 4 minuti e 37 secondi Ah ma allora Io me la faccio eh Se te mi vuoi con le trecine Però non mi faccio i dread Cioè se vuoi mi faccio le trecine quelle Intrezzate Non ti dico no Io non ci sto Con questi quattro cavernicoli Quattro cavernicoli No 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 non si può Oggi in De Mosca ti femo la rivoluzione Stattami bene Alta la vista Tutto normale Grazie 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 Grazie